ciao come ti chiami mi hanno battezzato con nunziata bruno poi mia madre per addolcire un po mi ha chiamato sempre nunziella e quindi mi hanno sempre tutti chiamato nunziella e senti ma che lavoro fai sono stata assunta in tresanna nel 2011 sono un buyer lavoro nella procuramento e sarebbe allora io faccio shopping sprenatissimo per l'azienda compro tutto quello che serve alla fabbrica posso acquistare un bene un servizio e metto un contratto ad un fornitore un collega che ha bisogno di una parte di ricambio io la compro e gliela porto e senti dici ma il bello di lavorare in trisanne sicuramente è quello di entrare a far parte di un contesto internazionale quindi comunque ti consente di diventare proattivo ti consente di diventare ambizioso riesci ad interfacciarti comunque anche con realtà totalmente differenti da quelle due beh mi sembra che insomma di capire che si dia molto peso al lavoro in team no lavorare in team stimola molto le migliori idee vengono sempre fuori da quella che apparentemente sembra un'orchestra di improvvisazione la risposta più efficace viene fuori soltanto dopo aver ascoltato e non è la risposta che tu pensavi di dare mi sto riconoscendo molto in questo in questo momento perché pensavo di dire una cosa e poi alla fine me ne viene fuori ma è sempre così ma senti dici un po e nel tempo libero che fai io così come nella vita nel tempo libero faccio shopping sono shop a tic tet e qual è l'ultima cosa che hai comprato uno sterzo paupatroll per mio figlio cosa uno sterzo paupatroll sono dei cani dei cani ho capito che sono dei vigini del fuoco qualcosa del genere ok ok e vabbè dai allora torniamo seri per un attimo e come vedi il futuro del pianeta oggi si sta lavorando tanto affinché le generazioni future quindi i miei figli probabilmente anche i miei nipoti possano trovare un mondo sicuramente più sostenibile io vedo già che mio figlio lui chiede mamma il vasetto dello yogurt lo metto nel tappo giallo tappo verde loro crescono con la cultura in questo caso della differenziata oh brava questa risposta mi è piaciuta veramente tanto e allora per chiudere dammi una buona ragione per lavorare in trisanne troverai me sto scherzando se ti piace un ambiente multiculturale multitasking multitasking dove comunque le tue attività non sono sempre uguali ripetitive noiose eccetera secondo me sei nel posto giusto vabbè va mi hai convinta eh però dobbiamo rifare perché non abbiamo registrato nooo